Madonna, vi siete vestite come la scenografia, che cazzo? Questi colori vivaci che vi siete messi addosso, e c'è cosa? È bella Cielammare, dì la verità. Da dove vieni tu? Io da Valenzano. Che cazzo ne senti Cielammare? Uuu, è bellissimo. Ehi, dai, non affende il nostro paese. No, non ho affeso, io ho detto è bella Cielammare, ho detto uuu, ma non la conosci perché pensavo che venissi da Cielammare e invece vieni da Valenzano. Sì, sì. Ma sei forte, con chi sei venuta qua? Con mio figlio, mia nuova e mio marito. In quattro? Cioè, la gente di Cielammare è rimasta fuori, tu sei entrata, come hai raccomandato? No, che raccomandati? Sto per stamattina un po'. Ma no, come quando arrivi a Pasquale Rossi allo Stato, che si mette con le tende. E parti da ieri da Valenzano, hai piattato la tenda all'inglese di Cielammare, se no domani c'è il concerto di Uccio. E tu invece? Da Trigiano. Da Trigiano? Oh, non è una Valenzano da Trigiano, come mai? Perché c'è un mio figlio a Cielammare. Ah, quindi sei come un passo, diciamo, come un Green Pass. Devo venire. Vive qua tuo figlio? Certo, quanti figli hai? Due. E tu? Quattro. Quattro. Dei gemelli. Con una botta, te li scusi tutti due. Mio marito prima mi ha fatto fare uno dietro l'altro. Che cazzo dico? Allora la prima, mi sono sposata a 18 anni, la prima aveva a 19, poi ha detto no, un altro rifacciamo. No, mo mi viene, dai. Ai due anni avevo già due figli, dopo otto, quattro, ho raddoppiato automaticamente. Mamma mia, sempre con la gamba aperta sei stata. Cioè questa è la morale della storia. A qual'epoca, eh? E mo avete chiuso, sì. Non si capisce. Chiuso per fai. E ride. Ma poi te ne restano mille. Vabbè. Bello però, è bello. Non è che ho capito quanti figli hai comunque? Quattro. Ma hai detto due, poi gli altri due, poi sono nati quattro. Ah, non sono otto. E tu lo sai, abbiamo perso il conto qui. A te quanti sono due? Due, sempre due. Sempre due, vabbè. Crescere quattro figli non è facile. Due anni tra l'uno e l'altro, perché i primi due, e poi l'altro... Arrezzufa. Altri due insieme di seguito. Cioè avevo smesso, tolto, proprio da capo. Ho tolto il, diciamo, il lettino. Ma non serve più, sono già otto. Dove vi togli il lettone, secondo me? Ma quello non serve, il letto non serve. Ah, sembra la lavatrice pure. Mannaggia, la miseria, che artista. Ma qua stava tuo marito, qua, sì? Sì? No, per la figura di Mercedes ne sarà andata, secondo me. Sì, va bene, sta scappando. Per il fatto che non si vede qua. A me è un'altra cosa che non si sta vedendo nessuno. Comunque l'anno prossimo sono 50 anni di matrimonio. E ne facciamo un altro, puoi sentire? Per festeggiare. Chissà la sorte, me ne fanno altri due. Ti piace? Che hai fatto quest'estate, a parte quello? Che hai fatto? A casa. A casa? Perché non sta bene, giustamente. Faccio l'assistenza sociale. Secondo me c'hai tu problemi, non tu marito. Che sei l'urto del vomito e mi sposto? No, non ti sa sentire nessuno, no, no, no. Stiamo noi, noi tre stiamo e basta. Poi quando facciamo entrare la gente, poi ci pensiamo. Però il modulo, vedi? Questa è la risposta degli indiani. Questa è la lingua? Sì, no, yes, ok. Come quando facevi l'amore con il tuo marito. L'olai lontano. Facevi. Vedi, quando c'è le calzate sono le campagne. No, è sistemante, è bello però, è bello. Senti, quindi il modulo vedi? Sì, tutte le sere. Mi piace questa. Tu invece? Qualche volta. Perché? Eh, perché vedo altro. Ti piace fino al signore? Ora chiedi. Io avevo fatto un pezzinino per te. Che c'è? Tu sei il mio tipo. Come farai? Gli piace l'urlata? Gli piace l'urlata? A me stai a dire. Ma bella. Senti. Allora, io devo dare il premio. Scusa, che premio ci devi dare? Devo dare il premio. Ti punti del Moodoo con quattro... Noi avrò parlato di noi. E tu, perché la famiglia tua, quante figlie ha? Cioè, lo capisco. Eh, scusa. Allora, ti metti qua e mi fai finta che... Allora, come si chiama lei? Allora, buonasera. No, si sente lo stesso. Allora, come si chiama lei? Uccio. Uccio. Ma fai da xì, porta a me. No, sembra a me, perché a me mi devo sentire tua e la bella voce. Sai, voglio sapere. Ma tu vivi a Valenzano o stai in cura là? Come capito. Uccio. Uccio? Che vi tu? Che il diminutivo è? Uccio, me l'ho detto. Sto mezz'ora a dire. Mi piace proprio. Ma perché? Tu sei bella. Che cazzo c'è? Mettiti qua. Ma mi fai discusso. Mettiti qua. Ma vabbè, quanti figli ha? Due. No, no, due. Uuuuuh. No. Anche tu hai fatto il lupo quando è stato, insomma. È il momento in cui non ci pu... Ho capito. Ehi, quando parla, stai zì. Metti qua, metti. Vabbè, vabbè.